Cioè rimango sola, non solo senza amoroso, senza amici, cioè mi dicono questa no. Che c'è qua dentro? Non può essere due volte di seguito tanta fortuna, l'ha avuta lui ieri, bisogna fare questo calcolo qua, matematico era questo. Gli appresi lui ieri e oggi non si potevano prendere, questa è la realtà. Dimmelo che ne ho rifiutati 100 un'altra volta, dammi un cappio. Non è ammoloso? No. Da quanto tempo? Un secolo. Chi mi sopporta? Non vedi che testa c'ho? Adesso proprio è finita, hai mai gozzitare la sicuro. Ma non per altra, non per i soldi, perché dicono quella è pazza. Pazza, pazza. Perché è pazza? Pazza perché non puoi rifiutare 100 mila euro. E neanche 40 non le puoi rifiutare, lo so. Sì, anche 40, ma tu non le rifiutate 40, tu non le rifiutate 100 mila. E poi tra niente 70 mila. Sì, però devi infierire anche tu, eh? Cioè non ti basta... È il mio lavoro. ...di farmi star male. Guarda che poi a casa ci ragionerò e so cosa ho fatto. L'hai detto tu è un gioco. Lo so. E allora... Guarda, non sto piangendo. Lui? Ne piangerò. Serena prima, serena dopo, con 100 mila euro di meno. L'hai detto bene, 100 mila euro di meno. Guarda, non sto piangendo. E' tutto vero. L'hai detto bene. L'hai detto bene. L'hai detto bene, stasera c'è la Roma. 250 mila euro. Fagli un applauso. Gabriele, vieni qua. Una volta si diceva che il lavoro in televisione guadagna tanti soldi. Io credo che chi ha coraggio come loro, che sono andati fino in fondo, senza una riuscita, senza mai amico, meriti quella chance che sono a fare i tuoi. Grazie. 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 Grazie.